Anche perché basta con sta storia della tv ragazzi, perché poi dire che non si va in tv, ora da quello che è successo ieri No, guardate, ecco, diamo un segnale di amicizia a Giuseppe Conte No, fermi, no, 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 non fatemi così Ci sono dei momenti in cui anche le persone che non ci stanno simpatiche hanno bisogno dell'umana solidarietà Io ho visto quell'uomo ieri in una condizione che mi ha veramente fatto male al cuore Intanto c'è a Di Maio che tutti i giorni cerca di fargli le scarpe, poveretto E già farsi fare le scarpe a Di Maio, una roba, cioè Boni Ieri Conte è andato e ha detto che lui non parteciperà più alle trasmissioni televisive della Rai A parte il fatto che oggi c'era un sacco di gente dei 5 Stelle in tv alla Rai, ma questo è secondario Ma l'elemento importante è che va capito Conte C'è Conte, era uno che era abituato a dare la linea al Tg1 Ma non dare la linea al Tg1 dicendo passo la linea al Tg1 Gli mandavano le immagini, Casalino le preparava con tanto affetto e tanta cura e tanto amore Era un lavoro, un sistema oliato, ben consolidato Gli hanno tolto E non si fa così Tutto sommato ci rimane male Allora io vorrei che dal palco della Leopolda, anziché fare polemiche, arrivasse una parola di amicizia Amicizia verso Conte, anzi fatemi lanciare un appello al direttore generale, all'amministratore delegato da Rai Fuortes Dai, non si fa così Gli avete tolto Rai 1 Date almeno Rai Gulp a Giuseppe Conte Dategli almeno Rai Gulp Grazie a tutti